Una discarica a cielo aperto nel cuore dell'area archeologica di Pestum e la sorte toccata a tutta l'area retrostante l'ex stabilimento Cirio che ospitava una fabbrica per la lavorazione del pomodoro di proprietà della soprintendenza che ha acquistato l'immobile nel 2005. L'opificio è situato a ridosso del lato meridionale esterno delle mura di cinta dell'antica città di Poseidonia e fu costruito sui resti di un antico santuario greco di Afrodite in parte celato sotto l'ex fabbrica. Oltre 3 milioni di euro spesi dalla soprintendenza per l'acquisizione della struttura per avviare le prime operazioni di scavo e per la sistemazione dell'area. Scavi che a quanto pare non sono più continuati e il tutto versa in uno stato di abbandono. L'acquisto dei ruderi è stato effettuato nell'ambito delle risorse stanziate per il progetto grande attrattore Pestum Velia finalizzate alla riqualificazione del parco archeologico. L'ipotesi progettuale prevedeva il recupero dell'immobile per destinarlo a sede museale di esposizione delle necropoli e dei materiali del territorio di Pestum e a sede di servizi connessi con il parco archeologico. Per la messa in atto delle azioni previste la soprintendenza presentò alla regione un progetto da 5 milioni di euro che fu bocciato. A dieci anni dall'acquisto la struttura sta diventando sempre più un rudere circondato da erbacce mentre i soliti balordi utilizzano l'area a modi di scarica sversando ogni sorta di materiale. Nei capannoni sfondati della fabbrica sono stati effettuati scavi che hanno messo in luce parte del santuario. Infatti lo stabilimento fu costruito proprio sopra l'antico santuario greco di Afrodite così che nel corso degli anni sono venuti alla luce tanti reperti alcuni anche a seguito dei lavori di ampliamento dello stabilimento. In questi ultimi 50 anni il sito è stato oggetto di numerosi studi archeologici che ne hanno confermato l'importanza dal punto di vista culturale e storico. Ma nonostante tutto è abbandonato a se stesso perché non si trovano le risorse per avviare una capillare campagna di scavi. L'ex stabilimento della Cirio potrebbe essere ristrutturato con un progetto di finanza per una gestione tra pubblico e privato.